Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara.Karen Bursin è stato oggetto di varie speculazioni romantiche da quando ha interrotto la sua relazione con Anne Hercel all'inizio del 2022. Tuttavia, le voci che lo collegano al suo coprotagonista in Jakob Seversen, Afsanorsan Kaktoutan, hanno finalmente portato ad abbandonare il silenzio. All'inizio della fiction Jakob Seversen, l'alchimia tra Karen Bursin e Afsanorsan Kaktoutan è stata palpabile, e i fan e i media hanno speculato in diverse occasioni su una possibile storia d'amore tra loro. La situazione è diventata più grave recentemente a causa di alcune fotografie che mostravano entrambi gli artisti fuori dall'orario di lavoro in un cinema, quello che sembrava essere un appuntamento romantico. Di fronte a questa situazione, Karen Bursin, noto per la sua discrezione nelle questioni personali, ha deciso di chiarire la situazione. Le voci romantiche sono stata una costante nella sua vita, ma fino ad ora l'attore aveva mantenuto un ermetico silenzio riguardo alla sua presunta relazione con Afsanorsan Kaktoutan. Il popolare rubacuari turco ha dichiarato che l'incontro al cinema è stato, in realtà, una squadra attività con i registi dopo aver lasciato il set, ponendo così fine alle speculazioni su una presunta relazione con Afsanorsan Kaktoutan. Karen Bursin continua a preservare la sua privacy e a prendere le distanze dal costante controllo mediatico che lo circonda.